Incontro con Rocco Chinnici, regista. Se volessimo far sapere ai nostri lettori chi è Rocco Chinnici, nonostante abbia un nome abbastanza e un cognome rinomato, chi è Rocco Chinnici? Beh, io credo che... penso di essere una persona semplice, anche perché amo la semplicità. Tanto è che mi occupo di preservi viventi perché credo che attraversano l'antività e mi nasce nel cuore di tutti questo amore per la vita e che poi dico alla fine si prendono grosse mazzate e stanno da facendo, però dico alla fine quello che premia è veramente l'umiltà. Io vedo spesso in giro lavori miei, ma quando si tratta di compagnie amatoriali, già la presentatrice comincia a tremare, mi dà quelle emozioni, mi rende così... partecipa al loro stato d'animo. È bello essere, diciamo, persone semplici. Come nasce questa passione? Beh, perché un po' da piccolo io amavo ascoltare le persone anziane, quando andavo con qualche persona in campagna anziana io preferivo stare zitto perché sennò perdevo di apprendere, perché quei bei racconti di una volta, quella cultura dell'ascoltare, ora invece adesso purtroppo si nasce tutti scienziati e quindi bisogna accettare la società così per come che è, insomma, sarebbe bello che rinascesse questa voglia ad ascoltare. Quando si è accorto che questa era la sua strada? Ma quando mi sono incontrato col magistrato Rocco Chinnici, così per caso, perché scrivevo delle mie poesie e lui ha voluto conoscermi e attraverso quella conoscenza mi ha un po' stimolato dicendomi, ma perché non scrivi anche opere teatrali? E mi ha suggerito di scrivere un dramma sulla mafia, dove che le famiglie si rivoltassero contro le famiglie stesse? Beh, e quello era il primo lavoro e devo dire che con quel lavoro ho vinto Tornei Applausi, che è un torneo nazionale dove partecipano i migliori autori italiani e l'ho vinto e quindi ho preso le medaglie del Presidente della Repubblica e allora da quella volta ho detto, beh, allora forse è meglio che comincia a scrivere. Una piccola postilla, Rocco Chinnici, visto che lei l'ha citato, oltre ad avere il nome e cognome identico al magistrato, lei l'ha conosciuto personalmente da come mi ha detto prima, che persona era? Una persona che il mondo intero ne avrebbe di bisogno tante, 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 perché è una persona che amava dire la verità, io ricordo la prima volta che lo incontrai, mentre io ero là presente per la prima volta e lui parlava con dei mafiosi come se non ci fosse nessuno in quella stanza, perché amava tanto dire la verità, tanto che io mi resi conto che gente così ce ne vorrebbe tanto, solo che poi alla fine si rischia la vita, poi è passato poco tempo che poi è andato via. Chiuse la parentesi, oltre ai cento lavori teatrali, c'è sempre più di qualcuno così affezionati, a cosa si è affezionato lei? Beh, intanto lei non mi piace perché il lei è una cosa che ci allontana molto, io ho un mio figlio che ha 42 anni e mi chiama Rocco, non mi ha mai chiamato papà perché dico la vita è così breve, sarebbe bello che tutti i papà e le mamme educassero i propri figli ad avere questo rapporto diretto perché nasce tanta bella confidenza, tante belle cose. Ora, riguarda il fatto di quale opera mi sia io innamorato, diciamo che forse non tanto perché è nella prima cosa che resti innamorato del primo lavoro che fai e quindi del dramma ultimato che è nato attraverso l'incontro che ha avuto col magistrato, ma forse perché quello è un lavoro veramente che è un teatro con la T maiuscola, un teatro dove si recita la realtà della vita, amara per quanto essa sia, perché parlare di mafia chiaramente è cosa che dovrebbe secondo me scomparire del tutto, anche il pronunziare questo nome diciamo. Però lavorare in un contesto così difficile come quello siciliano non è facile comunque. Sì, come infatti a secondi lavori che si propongono, adesso diciamo che bene o male non lo so per quale motivo, ma forse perché i giovani che nascono da questa famiglia riescono un po' a frequentare l'università, si acculturano e beh insomma dico non sono più tempi di una volta, quando ancora in qualche mio lavoro mi si batteva la manina sulla spalla dicendomi che forse è meglio fare un altro genere di teatro e insomma adesso non sono più quei tempi per fortuna. Andiamo a Sava, questa sua opera teatrale che viene riproposta a Sava, che effetto le ha fatto? Beh intanto Sava quando io ho trovato questi ragazzi e questa compagnia che facevano lavori miei, mi sono sentito con Tony, il presidente, il regista della mia opera che sta facendo, che stasera va in scena e devo dire che mi ha mandato, per non usare il termine un po' sporcaccione, mi ha mandato a quel paese dicendomi che praticamente non aveva tempo da perdere con me, mi ha incuriosito questo fatto perché io dico ma è la prima volta che mi capita, non ho detto come, fanno lavori miei e poi invece strada facendo ho capito che praticamente si sentiva lui essere preso per i fondelli perché pensava che un autore non potesse telefonare. Ora ritornando diciamo al primo discorso dell'umiltà, io credo che nella vita bisogna essere umile perché lunga per quanto essa possa apparire dura solo un attimo, dico a che serve essere ricchi e poi non avere l'umiltà per farci comprendere gli stati d'animo, le persone che hanno bisogno, il voler bene che è la cosa più bella, dico e quindi io amo queste cose, quindi al Sama mi trovo perché incuriosito da questo Tony, disse no ma io lo devo conoscere a qualsiasi costo e poi è andato a finire che siamo diventati molto amici, simpatici. Senti Rocco, molte opere tue vengono rappresentate dalle nostre parti però non viene mai citato il tuo nome. Adesso vedi questa è una piaga che praticamente non è solo qui che fanno lavori miei, non solo non viene citato il mio nome, per esempio io giorni fa hanno fatto qui un lavoro mio e maledito telefonino, quella è un'opera mia, però mi fa male sapere che non tanto il fatto che non abbiano messo di chi fosse la commedia, quindi mia, ma quanto del fatto che la commedia è stata rappresentata a nome di un altro, ma che senso ha? Io posso concepire e capire che la compagnia non ha soldi per poter pagare la CIA perché i tempi sono tristi, sono quelli che sono educati, alla fine non sono quei soldi che ci arricchiscono dentro, ci arricchiscono tante altre cose, però ci mortificano quelle cose quando, come questi tizi che vanno a rappresentare in giro la voi, lavori che non solo non pagano questi diritti di CIA ma che li fanno propri e questo mi dà fastidio. Un'ultima domanda Rocco, la nostra Puglia come si differenzia dalla tua Sicilia? Ma devo dire che sembrano terra e gemelli perché io ho sempre girando un po' l'Italia ho sempre considerato che da Roma a scendere si è quasi tutti dello stesso parlare, anche perché siamo stati sempre un po' non trattati bene dal governo italiano perché un po' perché ha fatto comodo che il meridione rimanesse indietro con i tempi perché chiaramente è lì che si va a chiedere voti e quindi la gente dove non c'è cultura c'è ignoranza e l'ignoranza riesce ad essere a disposizione di questi malandrini che poi sono solo dei filibustieri che poi... Perfetto, ti ringrazio.